Vuoi navigare, chiamare e inviare messaggi liberamente? Allora scegli Team Young e hai tutto sotto controllo! Vuoi più giga per chattare e condividere emozioni con tanti amici? Aggiungi internet extra alla tua Team Young! Parlare con i tuoi amici non ti basta mai? Aggiungi minuti extra! Scegli la tua Team Young! Minuti, SMS e internet con musica e traffico illimitato verso Team! Grazie a tutti!